Nome? Rossana. Noa. Cognome? No. Raffaelli. Che cosa fate nella vita? Nella maggior parte del tempo mi dispero. Io monto i video che guardate voi. Che cosa farete nel video di oggi? Dovrebbe essere un'intervista doppia ma sembra più un Q&A. Sì, perché rispondiamo alle vostre domande, praticamente. Come vi siete conosciuti. Grazie Mirko. Grazie Mirko, hai dato inizio all'escalation. Come avete conosciuto gli hitzlistener? Li ho conosciuti io perché ero depressa e avevo bisogno di qualcuno nella mia vita. Quel qualcuno era Kirishima. Solo il Kirishima di Yagami Yato. Io l'ho conosciuto di Onyxess perché il motivo che ha detto lei poco fa. Vi piacciono le mucche? Sono carine da quel che ho sentito. Non ho mai sentito di storie di mucche che vogliono ammazzare persone. Le mucche fanno il formaggio? Le mucche fanno il latte da cui viene il formaggio? No, sì, sì, vabbè. Ah, mi piacciono le mucche. Chi tra di voi tende a ingelosirsi di più? Lei. È, diciamo, l'intera diagnosi che dovrebbero farmi tra poco. Io mi ingelosisco tanto, ma incredibilmente a livello razionale so che non ho motivo di ingelosirmi. In quale personaggio di My Hero Accademia vi rivedete di più? Mina, Mei, però non c'è nessun personaggio depresso. Cioè, sono un misto tra Shinzo e Mei. Beh, probabilmente se prendete qualsiasi personaggio del pubblico civile. Cioè, non sono sicuramente un eroe. Qual è il peggiore anime manga che abbiate mai visto o letto? Io una volta ho visto parte del film Seven Days Wars, penso si chiamasse, una cosa del genere. Era terrificante, i dialoghi sembravano veramente buttati lì a caso. C'erano un sacco di bugli di trama, mi ha fatto veramente così schifo che l'ho fermato a metà strada. Ed è una cosa che non faccio mai. Non ce ne sono stati molti, probabilmente quelli che ho visto li ho droppati tutti quanti e non me li ricordo nemmeno. Però se devo dire, tra tutte forse la seconda stagione di Sao. Com'è nata questa passione per il doppiaccio? Ho letto il nome di Flavio Aquilone come voce di Sean Frost da piccola. Mia madre doppia. Avete un doppiatore o doppiatrice italiani preferiti o che magari vi piacciono di più? Noa. No, ok, se non è Noa, il doppiatore di Tanjiro, di cui non so il nome, adesso andrò a googlarlo. Renato Novara. Grazie Renato Novara per avere una bella voce. Ma ultimamente, cioè, la voce di Merluzzo è una bella voce. Quale personaggio degli X Listener che avete fatto vi piace di più? Intendo proprio il personaggio in sé. Cioè, il nostro personaggio? Perché come nostro personaggio mi piace Bakugo e mi piace Ochako. Bakugo è molto figo. Dabi mi è piaciuto come l'abbiamo fatto e mi sta piacendo Momo. Preferite il dolce o salato? Dipende dal momento, però io di solito vado per il dolce. Salato, decisamente salato. Pancakes! Preferite rimanere a casa o uscire? Ragazzi, ragazzi e ragazze e ragazze, i video non escono da soli. No, a me piace comunque rimanere di più a casa, onestamente, ma perché quando esco sto all'università, quindi insomma. Cani o gatti? O nessuno dei due? Sette gatti. Sette gatti. Manga preferito? Riflessi di luce di Giada Romano come manga italiano e Blue Flag di Kaito come manga giapponese. Non esattamente come manga perché, vabbè, la prima parte non era disegnata benissimo, però in generale fra manga e anime Attack on Titan è decisamente il mio preferito. One Punch Man probabilmente come manga per come disegnato. Vi piacerebbe fare un cosplay di coppia? Sì, sì, di quali personaggi? Sì, perché l'abbiamo proprio detto a Luca, ma non ricordo quali personaggi. Vabbè, ce ne stanno un po', possiamo fare Nagisa e la ragazza di Assassination Class. Ah, ecco, Heizu e Cookie, no? Oh, sì! Qual è il vostro cibo preferito? La sua carbonara. La mia carbonara. Murtro strano. No, vabbè, la carbonara in generale. Avete mai fatto cosplay o pensate di cimentarvi un giorno? Magari dei personaggi che avete doppiato? Non... Allora, sì, ho fatto dei cosplay io, ma ero piccola e ancora non mi vergognavo. E un altro ancora era Frisk di Undertale. Anche io ho fatto un cosplay una volta. E... Era... Come che si chiamava? Jeff the Killer. Non giudicate mia. Ero un quattordicenne nel 2014, ok? Wow. Ok? Quando arriverete ad un buon punto con gli hits listeners e gli impegni ve lo permetteranno, porterete nuove serie hits listeners? Spieghiamolo qui una volta per tutte. In questo momento, le serie che possono scegliere i Patreon da portare avanti sono tante. Troppe, forse. E, come avete notato, passano mesi, addirittura metà anno da una puntata e l'altra di una certa serie. Quando finiranno certe serie ne aggiungeremo delle altre. E, sì, potremmo aggiungere anche delle serie che non sono di My Hero Academia. Ad esempio, Tanjiro, che per adesso è solamente un one shot, non so se lo richiederanno mai, potrebbe tornare. Come potrebbe tornare Beidou? Come potrebbe tornare X? Tizio Kaji Semproni. Questa è un'anticipazione della domanda che c'era dopo, in realtà. Onestamente, io in particolare vorrei provare altre serie, perché My Hero Academia è divertente, sì, ma non... Sto un attimo a stupare. Cioè, non stiamo sfruttando abbastanza la storia dell'essere Heroes ed essere in un universo diverso. Cosa non vi piace in una persona? Quando mentono. Zero. Cioè, mi puoi dire che mi odi. Preferisco che tu dica che mi odi, guarda. Io quando parlano troppo non lasciano parlare te, quindi, cioè, nel senso che portano la conversazione avanti solamente in un punto che vogliono loro. magari chiedendoti anche, ah, mi dai un'opinione su questo, però era semplicemente per affermare la sola cosa. Credete nel destino? La visione di Mina del destino, detta nel primo episodio, è basata totalmente sulla mia visione del destino. è una sorta di determinismo, ora io non ho studiato a fondo l'argomento, però più o meno mi baso su quello. Il destino esiste perché è come se tutto lavorasse come in una macchina. Io personalmente non credevo nel destino. Fino a che non ho incontrato Rossana. Non so, finché non ho incontrato, boh, il microfono. Che valore date all'amicizia? Beh, l'amicizia è importante con le persone, non ce l'ho con molte in realtà, quindi do un gran valore perché, appunto, sono poche le persone con cui ho effettivamente un'amicizia e quindi immagino che sia un valore alto, appunto. Considerando che io reputo l'amore un'amicizia portata un po' oltre, per me è tipo la base di tutto, onestamente. L'amicizia mi fa provare più emozioni dell'amore, forse. Avete piani per la conquista e il dominio planetario? E se sì, quali? Perché fai questa domanda se sai già la risposta? Ovviamente sì, secondo te gli X-Listener che le abbiamo fatti affare. Personaggio immaginario più amato, Will. No! Sean, il mio personaggio. Ah, certo, certo. Il mio C. Amato e odiato... Infatti, la domanda dopo è il personaggio immaginario più detestato, Tartaglia. Tadakoro Megumi di Food Wars. Io la odio. Mi sta antipaticissima. Che ha fatto? È antipatica. E va bene. Piange e basta. C'ha la voce... Poi ogni tanto dice, no, io ce la posso fare. E no, fallisce. A me sta sui coglioni. Io la odio. Comewa, ma uscinde il re. Nani? Che consiglio dareste ai voi stessi del passato? Invest in Bitcoin. Sei effettivamente depressa? Accettalo. Cosa avete in comune? Tutto. Molte cose. La maggior parte delle cose, se proprio vogliamo, è più facile dire cosa non abbiamo in comune. Che anime guardate oltre My Hero Academia? Ma, in realtà, un po' di tutto, perché, cioè, nel senso, non sono così selettivo. Quello che è più in al momento me lo guardo, soprattutto se ho tempo. E, beh, poi decido se mi è piaciuto o meno. A me piacciono un sacco gli anime semplici. Alle volte un po' vecchi. Tipo Toradora, Assassination Classroom. Quelli sono quelli che mi piacciono di più. Se doveste essere la UA, che queercavereste? Se volete scoprirlo, andate sul mio Instagram. Nitzes la paladina. C'è, letteralmente, un highlight delle storie in cui il mio C self-insert di My Hero Academia risponde a questa domanda, tipo, tre volte. E poi si presenta. Ed è molto simpatica. Anch'io me l'avevo inventato un queer che, adesso non mi ricordo nemmeno come l'avevo chiamato, era, tipo, annusava l'aria di una conversazione, di una situazione, semplicemente gli faceva capire se andava male oppure no, se, tipo, se menavano tutte persone o qualcosa del genere, diceva, no, me ne vado, ciao. Ma non vi stancate a doppiare tantissimi episodi? Come fate anche con lo studio? PS, vi adoro. Anzitutto grazie per adorarci, ti vediamo bene. Sì, sì che ci stanchiamo, ma non è tanto il doppiare il problema, perché il doppiare lo fa in 40 minuti, massimo. Il problema maggiore è proprio lo studio, secondo me. Già, poi oltre a quello ci sta il montare, l'ideare i video, lo scrivere il copione, è lunga, raga, è lunga. Come vi siete conosciuti? Cosa vi ha colpito l'una dell'altro? O l'uno dell'altra? Determinazione. La sua altezza? No, una cosa che in realtà mi ha colpito e mi colpisce tuttora, è che letteralmente quando l'ho conosciuto, lui ha detto, eh non sono molto bravo a consolare le persone, lui ha imparato a consolarmi per me. Raga, il mio uomo, un uomo meraviglioso, che è prima suo, che è mio, ha imparato per me. Non mi interessa cosa ha imparato, ha imparato per me. Avete mai pensato di fare doppiaggio per qualche serie? Comunque vi adoro, grazie per adorarci. Fosse così semplice. C'ho pensato, ci ho pensato. Non è così semplice, purtroppo. Tuber preferito? Noa. Cosa odi del tuo partner? Allora, vabbè scusami amore, adesso me lo leverò dalla... Certo. Me lo leverò dalla... Cosa, che sono troppo fantastica. Che a volte è così... Cazzo, stramaledettamente... Figa. Non ce la fai proprio. Non c'è niente che odio di te. Ma odiare è una parola molto dura. Sai cosa, e te l'ho già detto in realtà, certe volte sei un po' tanto passivo, ma contemporaneamente se tu fossi più attivo di come sei ora, litigherei con te. Quindi in realtà non c'è niente che non... Cioè, sei perfetto per me così come sei, anche se dico che sei troppo passivo. Non è vero. Viva la passività. Descriviti con tre aggettivi. Complessa. Spesso sospesa. Stranamente carismatica per un qualche motivo. Divertente. Indeciso. Bravo. Bravo? Bravo ragazzo. Sei un bravo ragazzo. Quando e come vi siete conosciuti? Qual è stato il vostro primo anime o manga che avete visto o letto? Il volume 3 di Il Professore Leighton e i Misteri Buffi. Il primo manga che ho letto, fan fact, è Dragon Ball. Perché mia madre, sempre lei, non voleva che guardassi Dragon Ball in TV perché pensava che fosse... In TV. E quindi mi ha fatto leggere il manga perché almeno è leggere. Avete mai pensato di fare una live su Omegle con i fan? Non ci tengo a vedere i cazzi in chat. È proprio chiederlo. È come se mettessimo la possibilità su un piatto d'argento, onestamente. Cioè, c'è la possibilità di fare la ricerca con le parole specifiche, tipo password, ma anche in quel caso non avremmo il permesso di genitori, qualora voi foste minorenni. E immaginiamo che un po' siete minorenni. Eh sì. Avreste mai pensato di fare gli youtuber prima di esserlo veramente? Sì, in realtà sì. Cioè, avevo sempre questa predisposizione, tra virgolette. Insomma, io mi immaginavo, facevo i film alimentari, parlavo addirittura con me stesso su come facevo i video. Non l'avrei pensato, cioè non era il mio obiettivo o altro, però l'avevo immaginato giusto un paio di volte, ma perché lo fanno un po' tutti alla fine, immagino. Ed era divertente. Non è divertente come pensavo. Cioè, è comunque divertente. Tipo, questa parte di registrare è divertente. Il resto, non molto, ma perché dobbiamo incastrarlo con tutto il resto. Il vostro sogno nel cassetto. Nel senso, oltre al doppiaggio, cosa vi piacerebbe fare? Grazie, tisanina! Vivere una vita tranquilla. Vero? Ma io vorrei anche pubblicare i miei manga. Tutti quanti. Non le lascio fuori nessuno, altrimenti sono triste. Ah sì? E io allora li voglio leggere tutti quanti. Chi dei due ha più idee? Allora! Dipende da cosa si riferisce. Una volta ce ne avevo più io. Adesso inizi a diverne sicuramente di più tu. Allora, sì, perché mi sono anche abituato al fatto degli X-Listener, quindi anch'io sperimento, metto molte più cose, do più idee. Prima molte di più lei. Qual è il personaggio che vi diverte maggiormente a doppiare? È ovviamente Bakugo Katsukatsu. Io sto avendo un po' di difficoltà. Ma in realtà adesso, in questo periodo storico, magico, a doppiare, solitamente ti direi o Mina o Chaco. Chaco fa un sacco di battute cazzone, quindi è divertente. Quanti anni avete e da quanto state insieme? Io ho 21 anni. Io ho 22. Io ne faccio 22 a marzo, se volete farmi gli auguri. Stiamo insieme da due anni e mezzo, non mezzo, però quasi mezzo. Quasi. Quanti anni avete? Oh, cazzo, fantastico. State bene. Ti prego, leggila. Aspetta. State bene. Dammi un attimo. Aspetta, ce la faccio. State bene. Non più KittyKiller008. Non ce l'ho fatto. Tutto questo, questa è un'unica parte di te che hai dei problemi. State bene. Intento psicologicamente, fisicamente, moralmente. Scontato. Direi di no. Hai presente queste ultime tre parole? E queste ultime tre parole che sono state dette sono la risposta alla domanda. Direi di no. Però ci hai fatto ridere per tipo, boh, due minuti buoni. È una bella domanda, grazie per aver chiesto. È una bella domanda, ma intendo psicologicamente mi fa scoppiare. Più o meno. Voglio sapere i vostri segni zodiacali e MDP. M-B-P-M-B-T-I. Io sono Gemelli e il mio M-B-T-I è I-N-T-P. Io sono Ariete e sono I-N-F-P. Fareste mai un Gerald It's Listener? Si scherza. No, no, non scherzare perché effettivamente è in programma. È in programma. Seria, qual è il personaggio più facile da fare? Ah, più facile. Allora, devo dire, l'altro giorno ho scritto un episodio, un mezzo episodio di Toga e io mi ci sono trovato abbastanza bene, ho scritto abbastanza velocemente, in realtà almeno la sinossi. Sì, Toga da scrivere pure per me è molto facile, infatti gli audio di Viki. Ciao Viki, mi vengono lunghi, tipo il doppio di quello che dovrebbero essere. Sì, probabilmente Toga, anche perché è fico. Cioè, è un bel personaggio almeno che abbiamo messo noi. Di voce per me Tsuyu, anche se non mi piace scriverla. Cosa pensate quando fate gli NSFV? Al fatto che ho iniziato troppo presto a metterci troppa energia, quindi non so come continuare facendola sembrare un'escalation piuttosto che una roba lineare. Con Beidou mi è successo tantissimo. Quanto è che manca? Sì, come vi siete conosciuti? Domanda un po' imbarazzante. Ma come fate gli audio di NSFV? Non è imbarazzante? Anzitutto aspettiamo che non ci sia nessuno in casa. No, cioè, no. Non pensiamo assolutamente a nulla, anche mentre lo facciamo come vi ho detto prima. Per me non è imbarazzante. Ma è sempre il recitare. È sempre il recitare, è un recitare. Io non provo niente in quel momento. No, non mi imbarazza. Io spero solo che non arrivi nessuno a casa, perché il problema è tanto quello. Vi piace Aikyu? L'ho iniziato perché piaceva al mio ex. La pallavolo. Sì. Mi sembra un'animazione molto bella. Non so perché, ma gli anime gay sono animati bene. No, i personaggi sono carini da quello che ho visto. Il design è carino. Non penso lo guarderei. Io penso che lo guarderò. Pensate di prendere altri animali oltre al piccolo. Ormai gattone, patatone e c'hai ragione. 20. È un gatto da fare al forno con le patate, quindi. Sì. Altri gatti. Altri gatti. E forse un cane, un giorno, forse. Prendiamo il tuo bel labrador, nero. Madonna, sì. Qual è il personaggio più difficile da doppiare? Io ce l'ho. Shoto. Perché è noioso. Perché non è una voce del tutto naturale. E non riesco a tenerla per tantissimo. Soprattutto, sì, è un po' altra di coglione. Momo. Eh? Per lo stesso identico motivo, guarda. È bassa. E è sospirata. Quindi ogni tanto si mischia con Kiyoka. Quindi ecco, nel caso che Shoto cambia voce... È successo a Kirishima, è successo a Bago. Come vi siete conosciuti? Farete altri video live con Mike e Flex, lo spero. Se vogliono loro e vogliono i Patreon. Un saluto per gli spettatori a casa. Ciao. Grazie mille di tutte le domande. Speriamo di fare più Q&A in futuro. Magari, appunto, su qualche piattaforma un po' più viola. Sono divertenti i Q&A, mi piacciono. Io li adoro. E ancora una volta... Plus ULTRA!